Sono Francesca Rascazzo, lavoro per le edizioni Gruppo Abele. Le edizioni Gruppo Abele sono una casa editrice che ha sede a Torino e da molti anni si occupa di temi sociali. La casa editrice dell'Associazione Gruppo Abele di Torino, lavoriamo sul sociale, la legalità, i diritti, l'educazione, l'uguaglianza eccetera. Abbiamo soprattutto saggistica su questi temi ed anche una piccola collana di albi illustrati per l'infanzia sugli argomenti sociali, quindi le difficoltà della vita raccontate però con un linguaggio accessibile anche ai più piccoli. Sì, come libri particolari che vogliamo consigliare a tutti i visitatori della fiera che sta partecipando a questo evento. Segnalerei l'eresia della verità e l'ultima pubblicazione di Luigi Ciotti che è il fondatore dell'Associazione Gruppo Abele, presidente del Gruppo Abele di Libera, una raccolta di suoi scritti degli ultimi anni sui temi di cui lui si occupa da molto tempo, per i quali lotta da molto tempo. In occasione di domani, la giornata internazionale contro la corruzione, vorremmo segnalarvi Anticorruzione Pop di Leonardo Ferrante e Alberto Vannucci e un manuale di anticorruzione dal basso, cioè in sostanza una serie di strumenti alla portata di tutti per riconoscere la corruzione nella vita quotidiana e trovare il coraggio e la forza di combatterla. Progetti futuri? Continuare a lavorare su questi temi, su questi argomenti, puntando soprattutto alla qualità dei testi, dei contenuti, facendo però anche dei libri belli da vedere e da tenere e da regalare eventualmente, continuando a occuparci sia di lettori grandi, più o meno esperti sui nostri temi, ma anche dei lettori più piccoli.